Tornare a respirare a pieni polmoni, uscire dalla zona rossa della classifica e arrivare al derby di mercoledì sera con la Juve Stabia in modo più sereno. L'Avellino liquida il Taranto per 4-0, supera gli ostacoli iniziali grazie ai due rigori battuti da Marcello Trotta e trova altri due gol con Casarini e Murano. Dopo una settimana di porte chiuso in cui Rastelli ha lavorato anche sul 3-5-2, alla fine parte con il classico 4-3-3. Riconfermata la stessa difesa di Picerno, a centrocampo posizioni cambiate con Casarini al centro, Maisto a destra e Matera dall'autoposto. In attacco il tridente è composto da Russo, Gambale preferita a Canute e Trotta. Nel giovanissimo Taranto 5 gli under in campo, schierato col 3-5-2, in attacco ci sono la Monica e Guida. L'inizio è grigio come il cielo del parteneo Lombardi nel quale ogni tanto compare un raggio di sole, Maisto diventato oramai uno dei leader del centrocampo nonostante i suoi 19 anni. In Nesca Matera il tiro è fiacco, ed è proprio per un ingenuo fallo del giovane numero 28 che la punizione concessa al Taranto permette di vederlo per la prima volta in aria a destra a giro di Labriola, siamo al decimo, palla sulla traversa. La partita è spezzettata e poco divertente, gli spazi chiusi, l'Avellino si accende solo con le accelerazioni di Russo, mentre Guida spinge e cerca Varchi sfruttando le difficoltà di Rizzo. Il tempo passa, la tensione fra i bianco-verdi cresce. Il momento della svolta però arriva, il signor sfira di Pordenone, prima concede una punizione per il fallo di Romano sul Russo e poi il rigore, perché sulla punizione calciata da Tito, che si fa così perdonare dopo l'errore di domenica scorsa, la Monica devia di mano in aria. Trotta, 32esimo, non sbaglia, rigore perfetto e terza esultanza della stagione. Il Taranto reagisce con personalità dopo l'1-0, prima pane salva su Guida, poi la mira imprecita della testa di Diabì, servito da Mastro Monaco, grazie ai Lupi. Il primo tempo finisce così, nella ripresa il primo lampo lo accende Russo, ma la risposta non si fa attendere, tiro di guida, attacco di manetta, pane e blocca. Il pericolo subito però innesca qualcosa nella testa e nelle gambe degli uomini di Rastelli. Prima Russo serve gambare, colpo di testa, siamo al 57esimo in velocità fuori misura, poi ci prova con un tiro da fuori aria. E visto che segnare sua azione risulta complicato, arriva il secondo rigore a sbloccare la situazione. Ancora Russo, Stella incontrastata dell'attacco bianco-verde con un gioco di gambe, su Evangelissi si fa toccare in aria il motorino bianco-verde, poi batti becca con Trotta per battere il penalti, ma niente da fare e lui al 69esimo a calciare e a realizzare la doppietta che chiude momentaneamente la gara. Momentaneamente, perché sembra finita invece no, i pugliesi orfani anche di Capuano, espulso per proteste, accompagnato negli spogliatoi dagli applausi della tribuna Terminio, beccano anche il terzo gol. Angolo di Matera e colpo di testa di Casarini, rigenerato nel ruolo replay, capace di equilibrare e dettare i tempi che anticipa tutti e stende Vannucchi. Il sipario sta calando nell'extra time, siamo al 93esimo, il sinistro di Murano sorprende il portiere avversario e permette al bomber, ancora un po' triste, di ritrovare la rete anche in campionato. Alla fine, tutti sotto la curva sud a festeggiare di nuovo, dopo un po' di tempo, con la testa già proiettata al derby di mercoledì prossimo.